Abbiamo tutti i propri chiedenti asilo che arrivano in Piemonte, una parte viene poi dilottata nei centri di accoglienza che comunque hanno degli accordi con la prefettura e una parte rimangono qua. Quante persone ospitate, quelle che stanno facendo questo percorso, quindi stanno facendo la scuola per avere la licenza eccetera, quante sono? Attualmente è 132, il 100% va a scuola, questa assolutamente è una condizione, è un sistema che funziona, è un sistema che secondo noi dovrebbe essere esteso anche per quanto concerne questi arrivi, proprio perché è strutturato e praticamente con lo sistema sparare comunque il beneficiario, cioè colui che viene accolto, firma un contratto con noi e spieghiamo molto bene che ci sono dei diritti ma ci sono anche altri doveri. che devono essere rispettati. Voi potreste ospitare ancora più persone in questo centro? Assolutamente no, perché non saremmo sedi se andassimo con numeri più alti, anche perché questo numero ci permette di fare un buon lavoro con un numero di operatori, di tutor decente e oltre tutto, oltre questo numero certamente ci potrebbero essere dei problemi, perché chiaramente il nostro percorso viene fatto a persona. Ciò vuol dire che per ognuno di loro con noi viene eseguito giornalmente, dal momento in cui entra fino all'uscita e lo possiamo fare, ribadisco, con questi numeri. Alle nostre spalle, cioè questa, siamo nell'aula 2, questa classe in cui diverse persone stanno imparando l'italiano, da quando sono arrivati queste persone? Sono arrivati praticamente 3-4 giorni fa. 3-4 giorni fa, per dirla molto sgrezzamente, erano sui gommoni sostanzialmente? Questi erano sui gommoni, 5 giorni fa magari erano in Libia. E gli immigrati hanno storie drammatiche alle spalle, lasciano la loro terra natia con la speranza di costruirsi un futuro migliore, affrontano viaggi pericolosissimi in condizioni estreme senza avere la certezza di raggiungere la meta. Una volta raggiunti i centri, le persone ospitate vengono accolte, come abbiamo sentito, seguono anche i corsi di italiano in attesa di ottenere i documenti necessari. E questa mattina Patrizia Corniati ha raccolto alcune testimonianze che ascoltiamo insieme. Tu da dove provieni? Sono da Mali. Dal Mali. Ci vuoi raccontare un po' come sei arrivato in Italia? Quanti giorni? Intanto sei in Italia, da quanti giorni? Sono venuto l'edì, si passi. Da lunedì? Da lunedì, quindi oggi noi stiamo realizzando questo servizio il giovedì, quindi sono 4 giorni che sei in Italia. Come sei arrivato in Italia? C'era la guerra al suo paese, quindi lui ha lasciato il suo paese e con una barca di fortuna ha cercato di arrivare in Italia. Com'è stata la traversata? Vrappamente è molto difficile, ma è veramente molto difficile per venire qui. Molto difficile? E avrei molti persone sul bateau? Sì, abbiamo 113 persone. Grazie a Dio sono riuscita ad arrivare tutti ai 113. Perché dici che il viaggio è stato difficile? È tutto difficile. Il rischio che hanno corso è stato veramente alto. Ha detto che il viaggio è stato veramente difficile, che tutti i 113 hanno rischiato la vita, hanno faticato molto e hanno veramente sperato nella legge internazionale per poter avere una speranza. Quanti anni ha? Ho 25 anni, ho 25 dicembre del 1990. 25 anni. 25 anni. E' stato un giocatore di calcio. E' stato un giocatore di calcio. Il primo giorno hanno mangiato qualcosa, c'erano delle merendine. Dopodiché fino all'arrivo in Italia non hanno mangiato nulla. E che cosa pensi di fare adesso in Italia? Buono. Quando era in Costa d'Avorio lui lavorava come autista e quindi spera di poter diventare autista anche qui in Italia. Grazie. Grazie. Grazie.